Mancano poco più di 72 ore al 2023 e la Piazza del Popolo, dopo due anni di festeggiamenti inattivi, si sta preparando ad accogliere il Capodanno di Pesaro. La città torna a far festa con la Notte in Musica, l'iniziativa promossa dal Comune e che dà appuntamento a sabato 31 dicembre dalle ore 23 per prepararsi al brindisi di auguri per il nuovo anno. Una serata speciale pronta ad abbracciare famiglie e giovani e che vedrà sul palco centrale il sound di quattro DJ della città guidati da Clarissa Vicky, vocalist dell'evento conclusivo del 2022. La scaletta della serata prevede la performance Happy New Year 2023 dei Dual Size per proseguire con la proposta World Afro Brasil di DJ Tony Messina. La festa andrà avanti con il sound di DJ Damien per concludersi con i Ritmi House e Dance di DJ Tony Gandolfo. Tra i protagonisti dell'evento anche saxofonista solista Daniele Mancini, un'eccellenza musicale made in Pesaro e protagonista di collaborazioni con Lucio Dalla, Donatella Rettore e i Nomadi su Tutti. Alle 23.59 l'intera piazza del popolo sarà coinvolta nel countdown che Clarissa Vicky farà partire e una volta entrati nel 2023 si tornerà a ballare sulle note di Pesaro, città creativa della musica UNESCO che accompagnerà pesaresi e visitatori nel nuovo anno.